Musica Vivere in allevia Come voleva Don Bosco Spazio alla fantasia Come voleva Don Bosco Tanti ragazzi insieme Come voleva Don Bosco C'è un posto anche per te Come voleva Don Bosco Cosa che coglie ti senti famiglia Senti che ci sta bene Chiesa di Cristo Questa è una storia il cui passato è andato perduto ormai da tempo Parla di Valle Yubi oggi dimora dei due piccoli villaggi Meio e Sonkei ma un tempo culla di una delle più grandi e floride città del Giappone Ma la pace e l'equilibrio di quel tempo erano destinati a non durare Presto nacquero le incomprensioni e le incomprensioni portarono all'allontanamento Da quella frattura nacque un nemico che si nutriva di timori e paure L'unica speranza di salvezza per la valle è di seppare e sconfiggere quella paura prima che inghiotta tutto quanto Ma esisterà ancora tra gli uomini qualcuno in grado di affrontarla Questa è una storia di salvezza per la valle Grazie a tutti. Grazie a tutti.